A Bari il Carpe ha dato un'altra grande prova di forza e ora si presenta per la prima volta nella sua storia un derby da primo della classe. Che partita ti aspetti? È una partita molto difficile. Modena è una squadra forte e sta attraversando un buon momento. Sicuramente è una partita difficile ma noi ci stiamo preparando bene e siamo fiduciosi. Ci sono ribaltati i valori rispetto a quest'estate. Modena è a reddice da una semifinale pre-off per la Serie A e capi da una buona salvezza a quattro mesi dopo. Ci sono i valori totalmente ribaltati. Pensi che il Modena venga per cercare di accorciare questo gap? Sicuramente il Modena deve fare la partita per vincere perché è in una fase di ripresa dopo un inizio stentato a livello di punti. Sono una squadra che merita di più della classifica che ha. Noi è un periodo che stiamo giocando abbastanza bene e dobbiamo cercare di continuare a tutti. Grazie.